Nella precedente video lezione, di cui vi consigliamo vivamente il download e la visione, abbiamo preso in considerazione i componenti menu, pop-up menu e label. In questa nuova video lezione inizieremo a prendere in considerazione il componente edit, questo. Faccio clic e predispongo un oggetto di questo tipo sulla forma. Le proprietà della casella di edit, che ho avuto già modo di commentare, perché spesso l'ho utilizzata per esemplificare l'utilizzo di altri componenti, verranno prese in rassegna molto rapidamente. Dal punto di vista dell'apparenza potete controllare la smussatura, il basso rilievo, l'altro rilievo di angoli e bordi utilizzando, sperimentateli da soli, queste proprietà. Bevel Edge, naturalmente deve essere selezionata la casella di testo, il Bevel Inner, Lowered vuol dire in basso rilievo, mentre Raised vuol dire in alto rilievo. Vi ricordo anche che per disattivare una tipologia di evidenziazione dovete scegliere sempre la voce con dentro la parola None. Quindi Bevel Kind, BK None, equivale a disabilitare quella caratteristica. Border Style permette di aggiungere o togliere il bordo. Ciascuna di queste proprietà è controllabile anche attraverso un'istruzione specifica nel programma. A titolo d'esempio proviamo a rimettere il bordo con un bottone. Scelgo un bottone dalla tavolozza, lo metto sulla form, cambio il nome per brevità, doppio clic sul bottone per accedere alla procedura per l'evento clic. Voglio controllare una proprietà dell'oggetto chiamato Edit1, la casella di testo, e voglio cambiare la proprietà, faccio clic sulla casella, era Border Style, e la imposterò al valore con la costante BS Single. Quindi Border, mi faccio aiutare con Control Spazio, Border Style, assegniamo la costante BS Single. Mando in esecuzione, ed ecco, interrompo l'esecuzione, torniamo nell'inspector, a controllare questa volta la proprietà Chart Case. Serve per convertire automaticamente le lettere inserite nella casella di testo in minuscolo o maiuscolo. Oppure a non convertirle, quando la voce è settata al valore EC Normal. Provo a settarla sul valore EC Upper Case. Quindi tutte le lettere inserite verranno convertite in maiuscolo. Vedete che anche il valore di partenza, il contenuto di partenza Edit1 è stato messo in maiuscolo. Mando in esecuzione, cancello, provo a scrivere, e vedete che non c'è verso di inserire lettere in minuscolo. Tutte sono convertite in Upper Case maiuscolo. Torniamo all'inspector, proprietà Cursor. È la forma che deve assumere il puntatore del mouse quando viene spostato sopra la casella di testo. Normalmente è la freccetta, ma possiamo anche scegliere una di queste forme. Proviamo ad esempio la manina che punta. Mandiamo in esecuzione. Ed ecco la manina. Non mi soffermo sulla proprietà Color, ma neanche su Font e Style all'interno di Font, in quanto queste proprietà sono state ampiamente discusse con il componente Label Etichetta. Quindi se la cosa vi interessa andatevi a rivedere la prima video-lezione sui componenti, la parte prima. Stesso discorso per la proprietà Hint, il suggerimento che appare passando con il mouse su un oggetto, e la corrispondente proprietà che attiva la visualizzazione che è Show Hint. La proprietà Left indica la coordinata dell'angolo in alto a sinistra della casella di testo, relativamente al bordo sinistro della finestra che lo accoglie. Se proviamo a spostare la casella, vedete che il valore Left diminuisce se ci avviciniamo al bordo sinistro, o aumenta se ci allontaniamo dallo stesso bordo. La proprietà MaxLength indica il massimo numero di caratteri che possono essere inseriti nella casella. Un valore pari a 0 significa nessun limite. Proviamo a indicare 4 caratteri. Mandiamo in esecuzione e proviamo ad inserire delle cifre. 1, 2, 3, 4. Dopo 4 i caratteri sono rifiutati. Torno all'ambiente di sviluppo. Siamo arrivati alla proprietà Password Char. Se vogliamo utilizzare la casella per leggere in modo protetto una password o altri dati che devono essere mantenuti nascosti, possiamo specificare in questa proprietà il carattere da visualizzare al posto di quelli inseriti. Ad esempio, per simulare la classica casella per l'inserimento di una password, potremmo indicare come carattere sostitutivo l'asterisco. Vediamo cosa succede. Mando all'esecuzione e scrivo ma tutti i caratteri vengono sostituiti da un asterisco. 4 è ancora il massimo stabilito con la proprietà MaxLength. Torno sul browser Per far funzionare invece normalmente la casella di testo, dovete lasciare come carattere quello con codice Ashi 0 e si indica con la combinazione Gratella 0 La proprietà pop-up è stata discusa in precedenza La proprietà read-only impedisce la modifica del contenuto della casella di testo Proviamo La metto a true Mando in esecuzione La casella contiene la scritta edit1 Tento di modificarla Non ci riesco Non riesco neppure ad inserire altri caratteri La casella è read-only Solo lettura Riporto la situazione alla normalità Chiudo E metto a false la proprietà read-only Durante l'inserimento su una maschera che contiene diversi oggetti Ad esempio diverse caselle di edit Possiamo anche stabilire qual è l'ordine con cui si deve passare da uno all'altro premendo il tasto TAB L'ordine è deciso dalla numerazione che il programmatore può assegnare Sfruttando la proprietà tab hoarder degli oggetti tra i quali si può passare premendo il tasto TAB Per sperimentare aggiungo altre due caselle di testo Edit2 Edit3 Farò in modo che l'inserimento dei dati cominci con Edit2 Poi si passi a Edit1 e poi a Edit3 Allora il primo controllo che deve ricevere il focus deve avere come valore di TAB ORDER 0 Quindi seleziono questa casella, la prima E cambio il tab hoarder che automaticamente Delfi assegna in modo progressivo secondo l'ordine di creazione E metto 0 Poi vado sulla prima casellina Deve diventare la seconda C'è già uno come mi serve E lo lascio Poi vado su Edit3 E metto come TAB ORDER 2 Anche il bottone ha il suo TAB ORDER 3 Quindi è l'ultimo oggetto su cui verrà focalizzato l'input dei dati Riepilogando 0 1 2 3 Faccio partire l'applicazione E vedete che l'inserimento inizia dalla casella EIT2 che ha il TAB ORDER più basso 0 Scrivo qualche cosa Premo il tasto TAB e ci sposteremo sul controllo con TAB ORDER 1 Che era la prima casella Scrivo qualcosa Premo TAB e ci sposteremo sul TAB Su questa bella casella Che ha come TAB ORDER 2 Col TAB ora mi sposterò sul bottone E così via ciclicamente Quindi il programmatore ha il pieno controllo Sull'ordine di scansione degli oggetti che sono presenti sulla forma Chiudo TAB STOP Decide se quel controllo deve essere considerato nell'ordine di spostamento Per escludere ad esempio il bottone l'ho selezionato Scelgo FALSE Mando in esecuzione Ora uso il tasto TAB per spostarmi tra i controlli Vedete che questa volta il bottone è escluso perché il suo TAB STOP è FALSE TOP è la posizione in verticale della casella o meglio del suo angolo in alto a sinistra La posizione 0 è quella superiore, piccicata al bordo E man mano che ci spostiamo verso il basso il TOP aumenta Text è probabilmente la proprietà più importante per una casella di testo Corrisponde infatti al suo contenuto Se vogliamo che la casella parta vuota Dobbiamo semplicemente cancellare La proprietà text Vedete che questa casella non ha contenuto in partenza Quando una casella di testo viene creata La sua proprietà text viene fatta corrispondere al suo nome Questo è utile In quanto leggendo ad esempio Edit1 Che era il nome della casella Anzi è il nome della casella Eccolo Aiuta moltissimo il programmatore Quando deve scrivere il codice Perché per sapere a che variabile deve fare riferimento Per controllare la casella È sufficiente buttare l'occhio sulla form Per cogliere al volo i nomi delle variabili L'uso della proprietà visible è già stato discusso in precedenza Width corrisponde invece alla larghezza della casella di testo Unità di misura come tutte le altre È in pixel Cioè punti sullo schermo Ed ora un piccolo esempio di utilizzo della proprietà text Programmiamo il bottone In modo da far apparire in una finestrella di messaggio Il contenuto della casella di edit Doppio clic sul bottone Cancello il vecchio codice Chiamo allora la funzione show message E invece di fornire una costante stringa Indico il contenuto della casella di testo Mando in esecuzione Scrivo qualcosa nella casella Ed ecco il risultato Un altro esempio Aggiungo Al menu modifica Una voce clona Per farlo Apro con un doppio clic Sull'oggetto menu L'editor Mi sposto in corrispondenza Dalla voce modifica Mi metto In fondo E qui inserisco Clona Casella Di testo Perfetto Chiudo l'editor Aggiungo una seconda casella di testo Facendo clic sulla voce clona Casella di testo Il contenuto della prima casella Dovrà essere in automatico Copiato nella seconda Vado allora sulla voce clona Faccio clic Per attivare L'editor E la copia Avviene semplicemente con Il comando Edit2 Punto Text Cioè letteralmente Il contenuto Della seconda casella Deve diventare Il contenuto Della prima Mando in esecuzione Scrivo qualche cosa Ah, c'è ancora il limite di 4 Scelgo il comando clona E vedete che la scritta Roma E' stata copiata Clonata Nella seconda casella Un ultimo esempio Torno all'ambiente di sviluppo Elimino Il limite Dei 4 caratteri Mettendo 0 Ora farò in modo che in tempo reale Ogni carattere inserito Nella prima casella Venga Scritto anche nella seconda casella Cioè una clonazione in tempo reale In pratica Per farlo Vado a programmare L'evento Change Della prima Combo box E della prima casella di edit On change Doppio clic Per attivare l'editor E di nuovo Do il comando Edit2.text Assegna Edit1.text Tutte le volte Copio per intero Il contenuto della casella In modo più raffinato Avrei potuto gestire Il livello del singolo carattere Ma per l'esempio E' più che sufficiente Vediamo se funziona Mando in esecuzione Cancello il contenuto Della prima casella E anche il contenuto Della seconda Viene cancellato Ora Man mano che scrivo Il contenuto Viene clonato Il prossimo componente Che esamineremo E' il memo Questo Scegliamolo E disponiamone uno Sulla form Il memo Rappresenta Un'area di testo Un vero e proprio Mini editor All'interno Della finestra A differenza Della più semplice Casella di testo In un memo Si possono inserire Anche più righe Ci si può spostare Lungo il testo Con le freccette Con il mouse Si può selezionare Il testo Con la tastiera Provo ora con Maiuscolo E spostamento Verso destra O verso il basso Con un doppio clic Con un trascinamento Del mouse Si può comandare Il copia e incolla Anche direttamente Con il mouse E così via Torno ora All'ambiente di sviluppo Sostanzialmente Dobbiamo imparare Come Cancellare Il contenuto Di un memo Come inserire Righe In un memo Come estrarre Anche le singole righe O tutto il testo Da un memo Riutilizzo questo bottone Lo rinomino Lo chiamo Bottone Cancella E come caption Cancella Come avrete intuito E' il bottone Che cancellerà Il contenuto Del memo Con un doppio clic Sul bottone Attivo l'editor Ed inserisco ora La riga Che cancellerà Il contenuto Del memo Il memo In questo momento Si chiama memo1 Il comando E' quindi memo1 E accedo Al suo metodo Clear Abbiamo finito Proviamo Mando in esecuzione Scrivo qualche cosa Nel memo E lo cancello E lo cancello Sono tornato All'ambiente Di sviluppo Per mostrarvi Come precaricare Nel memo Del testo E' sufficiente Portarsi In corrispondenza Della sua proprietà Della sua proprietà Lines Fare click Qui E poi Sui tre puntini Di sospensione Si apre Una finestrella Che è l'editor Del memo Possiamo cancellare Anche la prima riga Standard E' sufficiente Ok E il memo E' stato precaricato Con queste righe Vediamo ora Come comandare L'estrazione Di tutte le righe Del memo Torno Ad elfi E aggiungo Un bottone Questo lo chiamo B Sempre per ricordarmi Che è un bottone Estrai Estrai tutto Come caption Semplicemente Estrai Con un doppio clic Accedo All'editor Come estrazione Ci accontentiamo Di visualizzare In una finestra Il contenuto Nel memo Una finestra Di dialogo La classica Show message E' sufficiente Accedere Alla proprietà Text Del memo Quindi il memo Si chiama Memo1 Quindi il suo testo E' semplicemente Memo1 Punto text Mando in esecuzione E provo il bottone Perfetto Vedete che L'intero testo E' stato estratto E riproposto In questa finestrella Di dialogo Ora Aggiungo Torno prima Naturalmente Ad elfi Una casella Di testo Qui La chiamo Copia E' anzi Riga Ed un bottone Ed è lui Che volevo chiamare Copia Quindi come Name B Copia E come Caption Copia Ora farò in modo Che facendo click Sul bottone Copia Il contenuto del memo Diventi il contenuto Della riga Doppio clic Sul bottone Per accedere All'editor Del codice E' sufficiente Assegnare Alla proprietà Text Del memo Quindi memo1 Punto Text Il contenuto Testo Della riga Riga Punto Text Mando in esecuzione Provo a cancellare Prima il contenuto Del memo Scrivo qualche cosa Nella casella E utilizzo Il comando Copia Ed ecco fatto Raramente però Si copia Tutto intero Il contenuto Di un memo Più facilmente Si aggiunge Una riga alla volta Vediamo come fare Torno all'ambiente Sposto Un pochino Questi due componenti Facendo spazio Ad un altro bottone Ecco Lo metto qua Lo chiamo Bottone Aggiungi B Aggiungi E la sua caption Di conseguenza Aggiungi Facendo clic Sul bottone Aggiungi Il contenuto Di questa casella Verrà aggiunto Come nuova riga Sotto quelle Già presenti Doppio clic Clicca sul bottone E il comando È il seguente Devo accedere Alle linee Del memo Memo 1 L'oggetto Che contiene Le linee Del memo Le righe del memo Si chiama Lines In realtà Non è una semplice Stringa Ma è un contenitore Di string È un vero e proprio Oggetto Come tale Ha dei suoi metodi Tra cui Quello che ci permette Di aggiungere Una stringa Al contenitore Il metodo Si richiama Come al solito Col punto E si chiama Add Aggiungi Tra parentesi La stringa Ad aggiungere La nostra stringa È il contenuto Della casella Di testo Chiamata Riga Quindi aggiungiamo Riga Punto Text Mandiamo In esecuzione Proviamo a scrivere Qualche cosa E aggiungiamo La riga al memo Aggiungiamo Anche una quinta Come avete potuto Vedere Aggiungere Una riga Non significa Cambiare In toto Il contenuto Ma Aggiungere Righe Sotto quelle Già esistenti Osservate La modifica Che ho apportato Poi vedremo Come si programma Ho aggiunto Questo controllo Che permette Con queste freccette Di scegliere Un numero Di una riga E quella riga Verrà prelevata Dal memo E copiata In questa casella Di edit Proviamo Zero ovviamente Non corrisponde Nulla Prima riga Ed viene stata Estratta Seconda Terza Beh la quarta Non c'è Quindi di nuovo Il nulla Possiamo tornare Anche indietro Ok Vediamo ora Come si programma Questo controllo Ci tengo a sottolineare Che di per sé L'estrazione Non dipende Da aver usato Questo controllo Però Lo possiamo fare In modo Molto più Professionale Torno all'ambiente Delphi Prima di tutto Ho aggiunto Questa è ovviamente La parte più semplice Questa etichetta Label Poi Ho scelto Questo componente Dalla sezione Devo spostare un po' La finestra Altrimenti non potete vedere Samples Eccolo qua Lo spin edit Nel caso Non doveste avere Questo componente Potete comunque Seguire la lezione E capire come Vengono estratte Le righe Da un memo Lo spin edit È assai semplice Da configurare Le proprietà Più importanti Sono forse Queste Il valore massimo Che può raggiungere Lo spin edit Volendo Potremmo far sì Che il valore massimo Corrisponda Al numero di righe Inserite Lo vediamo dopo E il valore minimo Qua direi che possiamo Già migliorare L'esempio Preparato da me Mettendo come Valore minimo Uno Configurare Lo spin edit È abbastanza semplice Le due proprietà Più importanti Sono probabilmente Queste Il valore minimo Che può assumere Lo spin edit Min value Potrebbe essere Uno Visto che non ha senso Estrarre Una riga Percedente La prima E il valore massimo Questo però Va impostato Dinamicamente Cioè Dipende Dal numero di righe Che sono inserite Nel memo Farò in modo Che Entrando Sullo spin edit E quindi Non a caso Vado a scegliere Nella sezione Eventi Dello spin edit L'evento On change Che ho già Preimpostato Ecco La riga Di questa procedura Dicevo Farò in modo Che entrando Sullo spin edit Attivandolo Ad esempio Con un click Il suo Max value Il nome Dello spin edit E appunto Spin edit 1 Sia uguale Al numero Delle righe Memorizzate Nel memo Per fortuna Il memo Può essere interrogato Per sapere Quante righe Sono in esso Contenute Memo 1 Punto Lines Proprietà Count Bene Cominciamo a vedere Se lo spin edit Funziona Almeno per quello Che riguarda Il numero Minimo e massimo Che deve regolare Mando in esecuzione Il progetto In effetti Il valore di partenza È 1 Aumento 2 3 E poi ci si ferma Perfetto Le righe sono in effetti 3 Provo ora però Ad aggiungere Una quarta riga Aggiungo Ora Vedete che Lo spin edit Consente di arrivare Fino a 4 Il suo valore È stato mutato Dinamicamente Da questa istruzione Non rimane Da vedere Che è l'estrazione Della riga Dal memo Alla casella Di edit Interrompo L'esecuzione È sempre Lo spin edit Che controlla Il tutto L'evento Però Non è più L'on Enter Che serve Semplicemente A settare Il valore massimo Abbiamo visto Dallo spin edit Ma l'evento On change In pratica Non appena cambia Il valore contenuto Nello spin edit Corrisponde al numero Della riga Che vogliamo estrarre La estraiamo Doppio clic Ed ecco che Siamo sulla riga Già compilata Già preparata In precedenza Dovremmo ovviamente Specificare Il nome del memo Il punto lines Per accedere Al contenitore Delle linee Delle righe Il contenitore Delle righe Può anche Essere considerato Un vettore E come tale Accetta Tra parentesi Quadre Il numero Della righe Che si vuole estrarre Ma il numero Della riga È contenuto Nello spin E il suo valore Corrisponde Alla proprietà Value Quindi Il numero Presente Nello spin edit È Spin edit 1.value Se vi state Domandando Perché A questo Abbiamo poi tolto 1 La risposta È che Nel vettore Le righe Sono Poste A partire Dalla posizione 0 Quindi Se le righe Sono 3 Questa È la riga 0 Nel vettore Questa È la riga 1 E la riga 2 Ecco allora Che per passare Dalla numerazione 1 N Dello spin edit Devo togliere 1 Così quando Nello spin edit È presente Il numero 2 Verrà chiesta La linea In posizione 1 Che è quella Che ci interessa Cioè la seconda Vediamo invece Ora come Modificare Una riga Cambio la Caption Del bottone Giungi In Modifica Appunto E vado A Ovviamente Anche a modificare Il suo codice Eccolo Già Impostato Ho deciso Che la riga Da modificare Sarà quella In posizione 1 Cioè la Seconda La sintassi È ancora quella Vista prima Memo 1 Nome del memo Punto Oggetto Lines E poi tra parentesi quadre La posizione Contando da 0 Della riga Da modificare E in quella posizione Memorizzo Il contenuto Della casella Di edit Chiamata Riga Quindi Riga.text Vediamo se funziona Mando in esecuzione Faccio clic su Modifica Ed ecco che La riga In posizione 1 Cioè la seconda È stata modificata E per inserire Una riga Vediamo Cambio ancora La caption Vado poi Sul codice Diventa Memo 1 Punto Lines Punto Insert Dobbiamo quindi Chiamare un metodo E indicare La posizione Proviamo con 1 Poi spiego E la stringa Ad aggiungere Quindi Questo comando Inserisce Nel memo 1 La linea Alla posizione 1 Cioè in seconda Posizione Qual è la riga Che aggiunge Riga.text Il contenuto Della casella Di test Chiamato riga Per inserire Quindi una riga In prima posizione Dovremmo indicare 0 Proviamo Il programma Inserisci Ed ecco che Il contenuto Della casella Di test Chiamata riga È Sempre Aggiunto In seconda posizione E le altre righe Sono Shiftate Di una posizione Verso il basso Terminiamo con La cancellazione Di una riga Questa volta Faremo in modo Leggermente diverso E cioè Uso questa casella Di edit Edit 1 Che sposto qua L'idea è Quella Di cancellare La riga Il cui numero Verrà scritto qui dentro Così Colgo l'occasione Per spiegare Come Convertire Il contenuto Che è una stringa Di una casella Di edit In un numero Perché il comando Di cancellazione Richiede di sapere Qual è la posizione Della riga Da cancellare Ed è un numero Cambiamo Cambiamo allora Come al solito La caption Del bottone Questa volta Vedete L'ho chiamata Elimina Poi con un doppio clic Andiamo sul codice Cancello quello vecchio E aggiungo E aggiungo Una variabile Locale La chiamo N Di tipo Integer Serve Per memorizzare La posizione Della riga Da eliminare Avrei anche potuto Fare a meno Di questa variabile E usare Le funzioni Di conversione Da stringa A intero Per così dire Al volo Ma il fatto Di usare Una variabile Intermedia Rende più chiaro Il meccanismo Inizio con L'estrarre Il contenuto Della casella Etit1 E a convertirla In numero Memorizzando il risultato N La variabile N La funzione Molto comoda Da usare È la funzione str To Int Stringa To Intero Da stringa A intero E tra parentesi Indichiamo La stringa Costante O Una variabile Comunque Un oggetto Contenente Una stringa Edit1 Punto text Sappiamo essere Appunto Una stringa Ora Prima di usare Ad hoc chiusi N Andiamo a controllare Che abbia un valore Valido Quindi Solo se N È Maggiore O uguale Di 0 Anzi Diciamo che L'utilizzatore Ragionerà In termini Di riga Numero 1 E riga Numero tot Per cui Solo se Maggiore O uguale Di 1 E Contemporaneamente Se Se N È Minore O uguale Di Memo 1 Punto Line Se vi ricordate Qual è la proprietà che contiene il numero delle righe Count Vero? Solo in queste condizioni Significa che possiamo procedere Con il comando di cancellazione Che è memo1 Si accede come al solito All'oggetto lines E si invoca il metodo delete Metodo delete Vuole semplicemente La posizione Della riga da eliminare Occhio Che Ragionando in termini interni La posizione va Non da 1 A Count Ma da 0 A count Meno 1 Quindi Dobbiamo togliere 1 Al valore di n N Meno 1 Mando in esecuzione Ecco C'è da dire che Quanto meno È necessario Inserire un numero Altrimenti il programma Non si accorge Che il contenuto È una stringa E andrebbe in errore Proviamo con 18 Non dovrebbe fare nulla In quanto Il valore È al di fuori Dell'intervallo Che siamo andati a controllare In effetti Non accade nulla Proviamo adesso Con un valore ancora Che potrebbe Trarre In errore Il programmatore 0 Di nuovo nulla Proviamo con 2 Dovrebbe sparire La riga Gamata seconda Ecco fatto Ora proviamo con 1 E dovrebbe eliminare Solo la prima riga Perfetto 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 Perfetto